Doveva essere una grande festa e così è stato. I campioni del futuro, tanto pubblico agli arrivi e la promozione di un territorio straordinario. Sì, siamo felici dell'interessamento di tutte queste persone che appunto si sono promosse per dedicare una giornata di sport a questi ragazzi. È una categoria molto importante per il ciclismo, una categoria dove tutto parte, quindi ci auguriamo che questo punto di partenza possa essere per noi poi un grande lancio di questa gara. L'emozione di una grande campionessa nel vedere questi ragazzi correre su quelle che ormai sono le strade di casa? Beh, è una grande emozione, sono ragazzi giovani ma sappiamo che poi il ciclismo parte da qui e credo che sia proprio importante promuovere queste categorie. Grazie a tutti.